Ciao a tutti e bentornati su Magistro Flotus. Oggi torniamo a parlare un pelo di standard, abbiamo visto che con il Pro Tour c'è stato un po' di interesse e in particolare ci tenevo a parlare di quelle che secondo me sono le carte che più probabilmente verranno bannate o comunque quelle che sono i possibili ban di standard in un futuro secondo me non troppo lontano, comunque nel breve medio periodo. Sapete la notizia nuova, lo standard è stato esteso ad un anno in più quindi la rotazione avverrà tutta un anno dopo rispetto al solito, quindi set anziché essere i set degli ultimi due anni saranno i set degli ultimi tre anni, quindi ovviamente questo avrà un impatto grosso sul meta, magari non subito però tra un po' comunque inizieranno a cambiare le cose, sicuramente un anno in più darà come dire più pull, più carte allo standard e questo lo renderà un pelo più vario. Tuttavia ad oggi lo standard, ne abbiamo già parlato nei video precedenti, sembra avere dei tire ben confermati, ci sono dei mazzi che dominano ampiamente il meta, l'ho aperto qua brevemente, Rakdos Midrange è quasi il 50% del meta, quindi tutto questo fa pensare che sia un ban in arrivo e nel breve periodo probabilmente. Rakdos Midrange e Grixis Midrange sono 43,7% del meta e 14,6% del meta e sono oggettivamente due mazzi molto 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 simili e capite bene che è il 60% del meta circa, quindi è facile pensare che venga bannato qualcosa. Partendo da questo ragionamento ho quindi pensato a quelle che sono le carte più forti di questi due mazzi e sulle quali sicuramente ci sarà un intervento. Le ho messe in ordine secondo me dalla meno probabile alla più probabile per quanto riguarda il ban e ovviamente io però non sono la wizard, devo essere sincero non seguo neanche tantissimo lo standard, quindi mi auguro che le mie previsioni siano il più corretto possibile ma non ne ho ovviamente le certezze, è solamente un pensiero. Detto ciò partiamo subito con il video e partiamo dal quinto posto. Al quinto posto ho messo una delle carte più iconiche di questo momento dello standard, l'harvester. Allora l'harvester è una carta fortissima, 3-2 costo 2 rakdos, un nero e un rosso. Quando entra nel campo di battaglia facciamo un block token ovvero un token che se lo sacrifichiamo a costo 1 scartiamo una carta, pescheremo una carta, un artefatto. Se sacrifichiamo invece la creatura, l'harvester, una creatura a bersaglio prende meno x meno x fino alla fine del turno dove x è due volte il numero di block token che abbiamo. Lo possiamo fare solo a sorcery. Questa è una carta veramente incredibile, l'ho messa al quinto posto perché le altre secondo me sono ancora più forti ma è una carta che è veramente, veramente tanto forte. Comunque è un 3-2 costo 2 quindi un rapporto forza costituzione costo di mana buonissimo. Fa un pezzo, un token che ci permette di pulirci la mano e creare sinergie forti con il pesco scarto e in più fa anche dare muval perché saccandolo comunque diamo meno x a una creatura. Veramente tanto forte questa carta. Sinceramente non credo che verrà bannata però è possibile, non lo escludo e comunque una carta che se bannata andrebbe a togliere un pezzo importante per i due mazzi che abbiamo detto quindi ragdos e grixis midrash tendenzialmente. Poi la seconda carta che ho pensato è invock despair. Questa è un'altra carta fortissima, costa un colorless e 4 neri quindi molto specifici. Una stregoneria che dice un avversario sacrifica una creatura, se non possono perdono due vite e tu peschi una carta. Poi ripeti questo processo per un incantesimo e per un planeswalker. Quindi l'idea è di fare 3 per 1 sempre. Nel caso migliore sacrificheranno una creatura, un incantesimo e un planeswalker. Nel caso peggiore pescheremo altre carte e prenderanno 6 vite. Non so neanche dire se è il caso peggiore, è comunque una giocata forte. Questa carta personalmente non penso che verrà bannata ma è comunque una papabile. Non penso che verrà bannata perché il 4 nero specifico comunque è un 4 nero specifico quindi non è così banale da castare. È un drop a 5 però c'è da dire che il power level è veramente molto molto alto per lo standard quindi non mi stupirei se la wizard scegliesse comunque di bannare questa carta. Al terzo posto abbiamo il reconner, un'altra carta che si sta giocando tantissimo. Questa carta credo che la giochino praticamente tutti i mazzi dello standard o comunque sicuramente la maggior parte. È un artefatto, un veicolo a costo 2 colorless, 4-4 che crew ha a 3 quindi lo possiamo animare tra virgolette a 3 con forza 3. Quando entra, entra con 3 segnalini. Se paghiamo 2 e lo tappiamo, togliamo un segnalino e peschiamo la carta. Se non ci sono più counter allora facciamo un treasure token quindi un tesoro che ci darà mana, un 1-1-1 colorless pilot che ci farà crew per i veicoli come se avesse forza 2. Quindi ci permette veramente di pescare un sacco di carte perché comunque 3 counters sono tanti e fare pesco 3 praticamente dilatato nei turni è forte. In più quando sono finiti ci fa il pippolo che ci permette di animarlo perché comunque è forza 2 quindi manca poco per fare crew 3 e un tesoro. È veramente una carta da value pazzesca. l'indecisione di questa carta sul ban è il fatto che comunque è una carta a cui hanno accesso tutti i mazzi quindi forse non andrebbe a sgonfiare solamente Rakdos midrange anche se comunque è il mazzo che ne giova di più probabilmente essendo appunto un midrange. Però come dicevo la possono giocare veramente tutti i mazzi quindi forse si andrebbe a toccare tanti mazzi e non è detto che ne valga la pena. Ci tengo a sottolineare che comunque queste carte non è neanche detto che io sto dando per scontato che ne venga bannata 1 o 2 ma non è detto che non ne vengano bannate 3 o 4 quindi magari magari ci prendo su più fronti. Poi al secondo posto abbiamo Sheholdred. Sheholdred se ne sta parlando tantissimo è una carta fortissima la conoscete tutti. Drop a 4 è incredibile, Detach 4-5. Quando peschiamo una carta guadagniamo 2 vite e quando l'avversario pesca una carta perde invece 2 vite. Penso che sia il drop a 4 più forte dello standard, sta facendo bene anche in altri formati. Pioneer, Commander, si sta tentando qualche lista addirittura in Legacy, insomma è una carta veramente fortissima. È una creatura quindi comunque un qualcosa di facilmente interginabile, passatemi il termine, nel senso che comunque è un tipo di carta facile da rimuovere il tipo creatura. A differenza invece per esempio dell'Artefatto che è un po' più complicato o un Planeswalker che sono un po' più complicati. Detto ciò è comunque una carta che va tolta assolutamente se sta giù fa partita da sola e che sicuramente dà un potenziale, dà un boost ai mazzi Rakdos, Midrange e simili veramente tanto 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 alto. Quindi questo è uno secondo me dei ban più probabili anche se ripeto potrebbe non essere la scelta della Wizard. Perché secondo me la carta che verrà bannata non dico 100% perché ripeto non è la sicurezza ma 99% è il Fable of the Mirror Breaker. Ripeto potrebbe non essere l'unica, magari viene bannata anche Shouldered, però questa qua secondo me è una delle carte che verrà bannata. È una carta che fa troppe cose, a costo 3 ci fa un 2-2 che quando attacca fa un tesoro, quindi già così è fortissima. Poi possiamo scartare fino a due carte e possiamo pescare altre tante carte, quindi ci sistema la mano. Al terzo punto della saga si flippa, a costo 1 ci fa fare un token che è una copia di un'altra creatura non leggendaria con rapidità e la sacrifichiamo in hand. Ci tengo a precisare che questa abilità oltre che essere fortissima in generale perché ci permette di copiare pezzi, scomba praticamente da sola con un altro Fable, perché se noi abbiamo due Fable e li flippiamo in hand possiamo per esempio copiare con uno copiare l'altro e fare un tot di token. Quindi non è una combo alla Splinter Twin che facciamo token infiniti perché comunque dobbiamo pagare un mana, però se ti faccio 6 token in hand e poi nel mio turno te ne faccio altri 6, cioè porca miseria sono tanti. E niente, questo secondo me è il ban più probabile, la carta che verrà bannata dallo standard. Si sta facendo benissimo in tutti i formati, si gioca anche in Pioneer, si può giocare in Modern volendo, in Commander, cioè è una carta che sarebbe forte in qualsiasi formato, quindi solo un ban la può togliere da un formato. Credo che questa verrà bannata, lo ripeto, però secondo me fra le 5 che ho detto ne verranno bannate almeno un paio. Quindi comunque rimanete sul canale che sicuramente vi terremo aggiornati su un'eventuale banlist e sicuramente, però sicuramente, oddio, penso che non sarà tanto in là, quindi sarà abbastanza breve e niente, speriamo di avere notizie al più presto e ovviamente vi terremo informati il prima possibile. Vi saluto, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate che verrà bannato in standard, se pensate che verrà bannato qualcosa, il mio parere è sì, l'ho detto più volte e niente, fatemelo sapere nei commenti, ci sentiamo la prossima volta, ciao a tutti!